Domenica 4 aprile Operazione della Polizia e della Magistratura su tangenti e appalti al Santo Bono raffica di arresti e perquisizioni a Napoli La Polizia di Stato di Napoli ha eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione di settuale antimafia a carico di amministratori di strutture pubbliche partenopee Legali rappresentanti di imprese e imprenditori ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di costruzione, turbata libertà degli incanti, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso L'inchiesta è condotta dai PM Woodcock, Carrano e Parascandolo Oggetto delle indagini e degli approfondimenti investigativi svolti appalti presso l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santo Bono Pausilipon e appalti presso l'azienda regionale per il diritto allo studio universitario Tra i soggetti coinvolti è finito agli arresti domiciliari l'avvocato Guglielmo Manna ex marito del giudice Anna Scognamiglio già a processo con uomini dello staff del governatore Vincenzo De Luca coinvolti anche alcuni esponenti dell'azienda Manutencoppo Indagini dei carabinieri sull'agguato consumato ieri pomeriggio nel napoletano a Giuliano Un uomo di 50 anni, Michele Lorenzetti, già noto alle forze dell'ordine è stato ucciso a colpi di pistola a barcaturo La vittima è stato accertato, non aveva legami con le organizzazioni malavitose Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia l'uomo era a bordo della sua auto, ferma a ridosso un hotel della zona quando è stato raggiunto da alcune persone che hanno fatto fuoco e poi si sono allontanate I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'agguato e gli ultimi movimenti della vittima Una tonnellata di frutti di mare non idonei al consumo umano e un impianto di stoccaggio abusivo sono stati sequestrati dal reparto operativo aereo navale della Guardia di Finanza di Napoli in un deposito allestito clandestinamente a Monte Ruscello nel comune di Pozzuoli I frutti di mare del valore di circa 20.000 euro erano destinati alla vendita sul mercato nero probabilmente nei negozi compiacenti della zona Telline, ostriche, noci bianche, fasolari, cannolicchi e vongole oltre a 10 kg di datteri di mare di cui è vietata la pesca erano immessi in acqua non sottoposta al monitoraggio chimico, fisico e microbiologico quindi potenzialmente rischiosi per la salute I responsabili sono stati denunciati Sette minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni sono stati denunciati per danneggiamento aggravato di edificio pubblico I giovani hanno compiuto la notte scorsa atti vandalici all'interno della palestra dell'istituto scolastico Marconi di Atena Lucana in provincia di Salerno I sette con il volto parzialmente coperto dopo aver forzato la porta d'ingresso della struttura sportiva hanno imbrattato utilizzando la schiuma di alcuni estintori in dotazione alla stessa struttura i muri, gli arredi e le attrezzature sportive provocando danni per alcune migliaia di euro I carabinieri della compagnia di Sala Consilina a seguito di accurati accertamenti hanno individuato i sette ragazzi tutti incensurati che sono stati segnalati alla procura per i minorenni Un detenuto di origini magrebine si è ferito con una lametta che poi ha schizzato il suo sangue su tre agenti di polizia penitenziaria è successo ieri pomeriggio nella casa circondariale di Carinola nel Casertano l'uomo ha anche aggredito 6-7 agenti che hanno tentato di ricondurlo alla calma i tre agenti sono stati ricoverati in ospedale per analisi e accertamenti gli altri si sono fatti medicare detenuti di questo genere ha detto Ciro Auricchio segretario regionale del sindacato USP non devono essere internati in strutture detentive attenuate come quelle di Carinola si tratta di un soggetto pericoloso che andava recluso altrove amici dell'ultima notizia grazie per la confezione attenzione appuntamento alla prossima edizione 2021 ok stacchiamo grazie a tutti